Appena hai segnato ti abbiamo visto correre verso la panchina, il primo ad abbracciarti è stato il Gallo Belotti. Sì, volevo condividere tutta la mia gioia con tutti i miei compagni, non solo quelli in campo, volevo andare un po' da tutti, è stata una bella emozione. Però questo è un sintomo anche del fatto che c'è un bel gruppo, un gruppo molto legato, in cui voi giovani vi siete inseriti al meglio, sembra? No, il gruppo come possono affermare tutti, come dicono tutti, è più che legato, siamo tutti dei grandi amici, noi giovani con un gruppo così unito è molto più facile fare le cose, lavorare, imparare. Grazie